La situazione che ogni volta mi sorprende è delle bellissime realtà che incontro e dei progetti molto importanti che vedo che tra l'altro stanno migliorando e crescendo la sinergia tra mondo del terzo settore e mondo delle istituzioni, questo è fondamentale. E dall'altra parte devo dire che il territorio abruzzese, teramo, pescara domani offre l'opportunità di confronto anche per tanti temi importanti che riguardano l'accessibilità ai servizi, non solo ma anche alle nostre città, al tema sicuramente dell'integrazione sociosanitaria, quindi dei servizi stessi che riguardano tante persone con disabilità e le loro famiglie. Beh c'è ancora da fare tanto, sicuramente è un tema, dicevo poco fa, mi ha fatto molto piacere prima essere accolta da tanti bimbi delle scuole, credo che bisogna partire da lì, partire dai più piccoli per cercare di costruire un futuro migliore e più spontaneo, cioè qualcosa che non dobbiamo andare a ricercare ma che sia naturale, pensare che quando facciamo qualcosa lo dobbiamo fare per tutti. A Teramo mi trovo benissimo, l'Abruzzo è meraviglioso, ogni volta non vedo l'ora di tornare, sono contenta di essere qui anche domani a Pescara per gli stati generali organizzati da Anfas, credo che lì parleremo molto di questo tema del diritto alla felicità per tutti.